Inizia a 18 anni l'attività imprenditoriale, prima come gestore di locali notturni, poi a 19 anni nel mondo del marketing. A 24 raggiunge il vertice della carriera interna. Si appassiona di formazione e sviluppo personale. Considerato da molti il miglior trainer e il massimo esperto italiano in Sales & Network Marketing. Oltre 120.000 persone hanno frequentato i suoi seminari. È stato major partner di Anthony Robbins, il miglior formatore al mondo in Italia. È docente all'Executive Master di Sales & Marketing ed ideatore del primo master in Network Marketing in Italia, presso Alma Mater, la business school dell'Università di Bologna, la più antica università del mondo. Le sconfitte non sono mai tali, a meno che tu non le voglia vivere come tali. Autore del libro Dai che ce la facciamo, edito da Franco Angeli. Fondatore del Networking Day, l'evento di formazione ed ispirazione più autorevole e più frequentato in Italia. Al prossimo episodio